La Vergraph si rivolge prevalentemente al mercato delle aziende e dei privati e opera a livello regionale. La Vergraph opera nel settore della vendita di compressori, impianti di aria compressa, aggraffatrici, fissatrici, chiodatrici pneumatiche, carrelli elevatori, punti metallici e chiodi. L'ampia offerta di compressori Kaiser permette di soddisfare ampiamente qualsiasi richiesta. Inoltre i sistemi di fissaggio e imballaggio, utensileria elettrica e pneumatica completano l'offerta. Personale qualificato e disponibile è in grado di consigliare alla clientela l'utensile giusto per eseguire ogni tipo di lavorazione. La Vergraph si rivolge prevalentemente al mercato delle aziende e dei privati e opera a livello regionale. Propone una vasta gamma di accessori delle migliori marche, garantendo assistenza tecnica in un'officina interna specializzata. Vergraph è a Bovolone, Verona, via Bellevere 25A. Per maggiori informazioni consultare il sito internet www.vergraphsas.191.it